Siamo qui con Petito, il migliore in campo di questi 20 minuti che hanno visto affrontare il Real Clemastere contro il Real Mazzini Risultato di 3-0, giusto? 3-0, giustissimo, loro comunque erano molto forti Noi abbiamo fatto più sostanza, più reparto al centrocampo E vabbè, una partita di 20 minuti non può dire niente di una squadra Però ci siamo stati, tutta sostanza Diciamo che avete battuto una grande squadra che è il Real Mazzini Che in tutti i torni SK si comporta veramente bene, sempre prima in classifica Non lo so, io sono una new entry, però sicuramente erano di tutto rispetto Va benissimo, ringraziamo il migliore in campo e possiamo chiudere il collegamento Un saluto da Boateng